Sì, si ripida tutto, si dopo si ripete Vedi, vedi? Eh, bisogna, no? Vedi, vedi come lo sta tenendo, vedi come lo sta tenendo La ragazza tedesca stava facendo andare a fare Io andavo, io andavo, io andavo, io andavo, io andavo Vedi, vedi come lo sta tenendo, no? Vedi, vedi, vedi come lo sta tenendo Vedi, vedi? Grazie a tutti.